Ciao, benvenuti in questo nuovo video tutorial dedicato alla Fire Stick. Di preciso vi parlerò di alcuni settaggi che ritengo fondamentali per permettervi di migliorare le prestazioni del vostro dispositivo Amazon. Si tratta di quei settaggi, di quelle impostazioni che io utilizzo sui miei dispositivi Amazon, indipendentemente dal modello, e che mi permettono di ottenere il massimo da quelle che sono le risorse hardware in termini di processore di memoria di questo dispositivo di Amazon che io da sempre vi dico non ha componenti hardware super eccezionali, performanti, però con alcuni accorgimenti si può ottenere il massimo appunto in termini di prestazioni. Avevo già realizzato alcuni video che vi mostrano come poter migliorare la velocità della vostra Fire Stick, uno legato alle animazioni che ci sono, che sono impostate di default sulla Fire TV Stick e un altro sulla Cache. Trovate tutti e due i link qua sotto in descrizione. In questo caso però in questo video vi farò vedere alcune impostazioni che sono già all'interno del sistema operativo Fire OS e che voi potete sistemare così da ottenere il miglior compromesso in termini di user experience, quindi l'utilizzo del vostro dispositivo e velocità appunto di accesso a quelli che sono i contenuti che ti mette a disposizione Amazon. Ovviamente come dico sempre ci rimane di andare a vedere il tutorial quindi i passi che devi fare mi raccomando se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale, lascia un like se l'avrai trovato utile e attiva la campanella. Questo ti permetterà di rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi contenuti dedicati alla tecnologia. Allora andiamo a vedere i settaggi che devi assolutamente fare sulla tua Fire TV Stick per ottenere il massimo in termini di prestazioni. Come sempre io sono qua in alto sulla destra minimizzato proprio perché voglio dare il maggior spazio possibile a quella che è l'interfaccia della Fire TV Stick così da permettere di vedere chiaramente quello che devi fare. Allora primo settaggio da fare assolutamente per migliorare appunto le prestazioni della tua Fire TV Stick. Dovrai spostarti sulle impostazioni lì con la forma di ingranaggio che qua sull'estrema destra dopodiché andare nella voce mia la mia Fire TV perché perché all'interno della mia Fire TV nel menu informazioni avrai la possibilità di andare a verificare gli aggiornamenti. Ti dirai perché devo verificare gli aggiornamenti? È molto importante perché essendo un sistema operativo proprietario Fire OS spesso Amazon attraverso i suoi sviluppatori migliora quelle che sono le varie versioni come accade su qualsiasi altro gadget tecnologico cercando di eliminare dei piccoli bug, qualche errore e questo può migliorare a volte anche notevolmente l'esperienza d'uso del tuo dispositivo Amazon. Allora per poter verificare l'aggiornamento una volta che ti sei posizionato sul menu ti basterà selezionare il pulsante centrale e attendere che in automatico si vada a collegare ad internet e vedere se esiste un aggiornamento. In questo caso non c'è perché io l'ho fatto recentemente per cui siamo al sicuro che stiamo utilizzando il sistema operativo più recente a disposizione. Torniamo indietro e in questo caso andiamo a spostarci sul menu suoni e schermo selezioniamo suoni e schermo ecco come vedi la seconda voce è salva schermo o anche come si dice in inglese screen 7. Che cos'è il salva schermo? Intanto entriamo dentro questo menu con il pulsante centrale. Si tratta di ciò che vedrai visualizzato sulla tua Fire TV Stick dopo un tempo che si può impostare appunto all'interno di questo menu. In questo caso nella sezione salva schermo attuale selezionando potrai andare a scegliere che cosa impostare come salva schermo. In questo caso è collezioni Amazon quindi allo stesso Amazon a proporti delle immagini che tramite un semplice effetto di slider vengono visualizzate sul tuo schermo oppure possono essere ricordi quotidiani, le tue foto presenti all'interno per esempio di Amazon Photos e così via. Ovviamente questo tipo di applicazione integrata all'interno del sistema operativo necessita di risorse che vengono tolte all'utilizzo normale per poter accedere al contenuto di audio video della tua Fire TV Stick. Per cui cosa ti consiglio di fare? Ti consiglio di spostarti su orario di avvio, selezionarlo e andare o a allontanare il tempo di avvio dello screensaver perché questo ti permetterà di far passare più tempo e quindi magari di riutilizzare il telecomando e non permettere allo screensaver di attivarsi oppure come faccio io selezionare la voce MAI. In questo caso selezionando MAI il servo a schermo non entrerà mai in causa e quindi tu potrai avere sempre a disposizione il massimo delle prestazioni solo per le funzioni di streaming della tua Fire TV Stick. A questo punto potresti dirmi sì ma se io volessi per esempio non utilizzarla e metterla in standby a parte che ho preparato un tutorial che ti spiega esattamente come fare ma potrai sempre farlo o in automatico perché dopo circa 20 minuti di utilizzo la Fire TV Stick è predisposta per andare in automatico in standby oppure ti basterà selezionare l'iconcina a forma di casina per qualche secondo dopodiché vedrai che comparirà questo menu semplificato dove nella parte centrale avrai appunto la funzione stand by che tu potrai attivare con un semplice clic centrale così la schermo vedrai si oscurerà e potrai disattivarlo selezionando qualsiasi tasto del telecomando. Andiamo indietro altra impostazione da fare a che vedere con la sezione audio dove troverai all'interno per esempio il menu suoni di navigazione che sono come ti dice la vita scaliera i suoni di prodotti quando navighi o selezioni un elemento sullo schermo di Amazon Fire TV in questo caso Stick Light perché la mia è la versione Light ma vedrai scritto il nome del tuo dispositivo è fondamentale avere questi suoni? Assolutamente no e come accade per altri sistemi operativi questo occupa risorse del tuo dispositivo per cui impostalo pure su off come ho fatto io perché non ne sentirai la mancanza. Andiamo indietro a questo punto possiamo spostarci su altre sezioni ovvero nuovamente sulle impostazioni stavolta però su preferenze una volta entrato nel menu preferenze vedrai questa voce ovvero impostazioni privacy entra dentro e all'interno ci sono una serie di menu molto importanti ovvero il consenso per i cookie che come dice la didascaria identificativi del dispositivo e altri strumenti simili per migliorare la tua esperienza pubblicitaria fai bene attenzione a questa parola perché anche i dati utilizzi dal dispositivo poi raccogli dati di uso delle app pubblicità basate sui suoi interessi sono tutti interessi scusami sono tutti i menu dedicati appunto alla parte pubblicitaria che è presente su questo dispositivo che è brandizzato Amazon che notorialmente è un marketplace enorme che ha un unico obiettivo quello di fornirti un dispositivo dalle grandi potenzialità come la Fertibu stick light o anche le Fertibu stick che spesso sono in offerta con ovviamente l'intenzione poi di suggerirti oggetti gadget prodotti che ti invoglino a collegarti allo store ufficiale di Amazon e magari fare qualche acquisto ed è normale che sia così se non vuoi essere tracciato in questo senso puoi disabilitare tutti e quattro questi menù come ho fatto io torniamo indietro monitoraggio dell'utilizzo dei dati monitora il consumo di dati su Amazon Fire TV anche in questo caso puoi o abilitarlo o disabilitarlo di default è abilitato io lo disabilito perché non ho necessità non utilizzando la Fertibu stick per decine di cose contemporaneamente ma una cosa alla volta l'utilizzo per guardare contenuti streaming e tanto mi basta ed essendo collegata alla mia rete wireless non c'è nessunissima necessità che sia attivato questo tipo di monitoraggio impostazioni notifiche entriamo in questo menu ecco come vedi attiva per nascondere tutti i pop up delle notifiche delle applicazioni che possono essere necessarie come no direi quindi devo attivarlo non devo attivarlo io come vedi l'ho lasciato su off e se tu vuoi puoi comunque decidere all'interno di notifiche applicazioni quali sono le applicazioni che vuoi non ti mostrino notifiche di eventuali aggiornamenti ok sarai tu a decidere quali vuoi che siano attivati poi contenuti consigliati anche in questo caso questi due minuti suggerisco di disabilitarli entrambi perché perché si preoccuperanno di rendere dinamici animati i contenuti che si trovano nel header nella parte in alto dello schermo della tua Fertibu stick dove comparino i prodotti più recenti i video le serie tv i film che in parte automaticamente ti verranno mostrati sia per quanto riguarda l'audio che per il video e ovviamente questo occuperà delle risorse che invece ti potrebbero servire per avere una migliore prestazione in termini utilizzo quando guardi contenuti streaming proprio dalla Fertibu stick per cui come ho fatto io disabilitali pure perché questo migliorerà l'utilizzo della tua Fertibu stick anche per quanto riguarda sincronizza contenuti recenti io ti suggerisco di importarlo su off che cosa sarà potrebbe capitare anzi spesso capita che nello stesso nucleo familiare ci siano più Fertibu stick ma tutte collegate allo stesso account attraverso questa funzione ognuna delle Fertibu stick mostrerà quali sono i contenuti recenti che avete consultato e li farà vedere su ognuna delle Fertibu stick se non vuoi tenere sotto controllo questa cosa anche perché non ne vedo l'utilità fai come me disattivala e questo migliorerà le prestazioni della tua Fertibu stick come visto è abbastanza semplice quello che dovrai fare ma fondamentale direi che siamo arrivati alla fine di questo tutorial ma solo per questo io quindi ti saluto e ti rimando al mio prossimo contenuto qua sul mio canale mi raccomando continua a seguirmi andreamini alias dot zivago ti saluta ciao a presto